ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video finalmente riesco a fare un video e da tanto che non ne faccio uno oggi faccio un video tutorial su make up che non è particolarmente invernale è un po più estivo però mi piaceva tantissimo era da tanto che lo volevo realizzare infatti avevo fatto un video all dove avevo acquistato gli ombretti della kiko vi lascio nel palino informazioni video se volete andare a vedere e è passato un po di tempo non sono riuscita più a farlo e adesso sono riuscita a farlo è questo trucco qui mi piace tantissimo può essere anche un'alternativa ai trucchi di natale sì è un po estivo però può essere anche usato per andare in discoteca perché no molto carino magari anche con una variante di colore io ho voluto fare anche una cosa particolare sulle labbra come ho fatto con il video del trucco di natale l'ho voluto riprodurre anche qui però questa volta ho messo il viola ho opacizzato il rossetto viola e ho messo l'ombretto quello che ho picchiettato sopra l'occhio e devo dire che l'effetto mi piace veramente tanto spero che questo video vi piaccia se il video vi piace mettete un bel pollicione in su commentatemi e iscrivetevi per non perdere i nuovi video io vi lascio al tutorial alla prossima ciao iscriviti al canale iscriviti al canale ciao 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 ciao